Allora, oggi abbiamo fatto il Color Man, la signora, abbiamo provato il nuovo trattamento ossigenoterapia. Che cos'è l'ossigenoterapia? Serve per rimpolpare ancora di più il cappello e per attivare la circolazione del sangue del bulbo capillare. Così se il cappello è un po' deteriorato rimpolpa un po' il cuore capelluto e dà ossigeno al cappello. E quindi è stato proprio studiato per chi perde un po' i capelli, che ha il cappello indebolito. Questo è un trattamento al top che funziona a 360 gradi. Fin da subito si vedono i risultati. Il cappello rimane lucido, bello bilantato e anche luminoso. Raviva ancora di più il colore e quando la cliente lo lava si sente il cappello bello morbido, fin da subito. Ok, abbiamo fatto questo qui, abbiamo fatto anche il tagliare punte alie e abbiamo trasformato il cappello lucro al signore.